Stiamo a studiare il motto della giornata, il motto di oggi, quindi studiamo il motto di oggi. Vengono un naso rosso oggi che uno stagionato male. Questa seconda, a questa seconda, a questa seconda. Vengono essere la vostra, non è stato il tuo padre, non è stato il tuo padre. E diciamo che oggi sono qui, avvicinatevi a là. Allora facciamo una sorta di donne arrivato da Rotino, come farebbe lui. Non si incriva giù tutti. Quello che arriva a tutti. Ok, è arrivato il provo di Corsia. venite ci sono mazzarelli bruttamente non vi veniva la rota coltelli non vi veniva la rota coltelli non vi veniva la rota coltelli non si fanno ridere, ridere tanto venite donne, vado qua donne con il tocco di sinistra donne bianchi armini gandini quando ti metterai ti metterai e poi questa giornata straordinaria se i polizieri vengono anche di pensionerci ma voi arrivate sono soldi e soldi per fare un pietro 3, 2, 3 stai passando grazie 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 buona buona donna ma sei Spiderman Bello Spider-Man, complimenti! Ah sei un gatto, hai avuto paura che tu non sia fatto Spider-Man No, te lo rifaccio, te lo rifaccio, non ti preoccupare Questa è una notizia straordinaria Dunque ragazzi, adesso vediamo qua che c'è anche il sole Quello che fa è la canzone a Catania Babaletta Babaletta Sì, è la canzone 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 matter of resource Sì, guarda bene Sì, ora, si guarda Puoi aver guardato il sile ed è la canzone il nostro finale caso è un simaforo un po' male ma la ragione più non è disoluzione ma la stessa situazione ma la stessa situazione guarda la stessa situazione guarda la stessa parte guarda la stessa parte guarda la stessa parte fai un numerino ma che cuore siamo? noi siamo trafili grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.